Derubato in pieno centro del portafoglio, bello gonfio di contanti, 350 euro per l'esattezza, vittima del furto con destrezza, un sacerdote 88enne in piazza Castello a Campo San Piero. Il religioso era a bordo dell'auto, parcheggiata sul posto, è stato avvicinato da due uomini che volevano vendergli della frutta. Appena il prete ha estratto il portafoglio dalla tasca per pagare, i ladri glielo hanno strappato dalle mani e sono fuggiti verso un furgoncino bianco allontanatosi subito dalla piazza a tutta velocità. Al sacerdote non è rimasto che fare denuncia ai carabinieri.